Passiamo alla terza tipologia di molecole del tipo AX4 in cui abbiamo un atomo centrale e quattro atomi legati all'atomo centrale, ricordiamo che possono essere atomi o doppietti non condivisi, queste molecole hanno tutte una struttura di tipo tetraedrico. Ne sono un esempio il metano che vediamo adesso è l'acqua. Il metano l'avevamo noi semplicemente indicato come CH4 in questo modo, ma questa è una rappresentazione di Lewis che non tiene conto di quella che è la geometria molecolare vera e propria del metano. Prima di andare a fare la geometria molecolare vera e propria del metano, dobbiamo tenere presente che il metano ha una struttura di tipo CH4, cioè una struttura di tipo AX4, dove l'atomo A è quello centrale e le quattro X sono i quattro atomi legati all'atomo centrale. Sempre per il principio di elettrorepulsione, il principio di elettrorepulsione, gli atomi della classe AX4 come il metano CH4 si dispongono secondo una struttura tetraedrica. Il nostro angolo di legame che va a distanziare i legami covalenti in questa struttura tetraedrica è di 109,5 salvo eccezioni. L'ultimo esempio che andremo a fare riguardo le classi di molecole del tipo AX4 è la molecola d'acqua. Anche essa ha una struttura tetraedrica. Appunto perché è formata, non facciamoci ingannare perché ho detto che i doppietti elettronici se andate a fare la struttura di Lewis, viviamo fuori questa struttura e la dovete sapere fare dopo le lezioni che abbiamo dedicato alle formule di struttura di Lewis, se fate la struttura di Lewis vi vengono fuori due doppietti di elettroni non condivisi dall'ossigeno. Ogni doppietto voi dovete considerarlo come se fosse un atomo.